Nei giorni in cui si fa memoria del Corpus Domini non sarà male tornare ai temi della liturgia. Voglio farlo in questo caso ricordando il passionista Enrico Zoffoli, filosofo e teologo in signe, nel mese di giugno in cui ricorrono 25 anni dalla sua morte. Nel suo libricino Eucaristia o nulla afferma che, cito, molti sacerdoti all'altare sembrano dei funzionari del culto, non curandosi di rispettare le rubriche, dimostrandosi sbrigativi, abitudinari, distratti e annoiati. Preferiscono parlare del sociale piuttosto che di Dio. Si preoccupano di raccogliere fondi per costruzioni e restauri, organizzare menze e accoglieri stranieri, barboni, emigrati, dimenticando tutto il resto, che è molto e assai più importante. Antropologia, psicologia e sociologia interessano più della teologia. L'amore del prossimo sembra che prevalga sull'amore di Dio e la sua giustizia. Queste parole di padre Zoffoli, scritte più di 25 anni fa, fanno pensare a cose veramente interessanti, cioè a cosa avrebbe detto se fosse stato vivo oggi, costretto a confrontarsi con la situazione attuale. Per quanti sacerdoti la messa sembra un'incombenza da assolvere, rendendola più interessante, non servendo il rito, ma servendosi del rito, per divenire protagonisti laddove bisogna essere servitori. Per superare quella noia di cui parlava padre Zoffoli, si fa in modo che le liturgie siano simili a spettacoli, con il prete come showman e musiche il più possibili simili a quelle della musica commerciale, così da intrattenere i fedeli che invece, paradossalmente, veramente sembrano più annoiati che mai e a frotte abbandonano i banchi della chiesa. E se le persone volessero il sacro? Non ci hanno mai pensato questi innovatori che la gente possa sentirsi attratta dal senso del sacro, dell'adorazione? No, non ci vogliono pensare, perché rovina la narrativa a cui hanno aderito, magari dalla loro entrata in seminario. Certo, ci sono alcuni sacerdoti che capiscono tutto questo, capiscono che le rubriche proteggono loro e i fedeli dall'andare fuori dal consentito, ma, mi dispiace dirlo, non sono molti e spesso sono anche avversati, vengono rimproverati di non essere creativi al servizio della gente. In realtà il sacerdote è a servizio di Dio, diciamo per la gloria di Dio, e solo in questo modo può essere utile ai fedeli, edificandoli per l'edificazione dei fedeli. Solo in questo modo, da funzionari del culto, possono divenire pastori e contribuire a portare un po' di cielo sulla terra.